Salve, benvenuti a Rottebam. Ora sto andando a prendere la metropolitana, purtroppo il tempo non ci aiuta. Guardate qua che neve. Tempo pessimo, quindi non so che cosa si riuscirà a vedere né dal video né dalle fotografie. Eccomi, è arrivato alla fermata. Adesso dovrebbe arrivare l'autobus e poi metro. Salita in metro, più bella che non mi ricorda, a quella fermata devo scendere. Ok, alla fine è trovata. Ciao. 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 Presidente. Sono riuscito a fare, finalmente, la foto panoramica, che poi vedrete. Nella descrizione vi metterò oltre le coordinate GPS anche il nome di questo hotel dove poter fare questa foto Il mio viaggio in Olanda si conclude qua, spero che vi sia piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi e se volete seguire e vedere altre foto seguitemi su Instagram, ciao alla prossima